Ciao ragazze, ciao ragazzi! In questo video vi faccio vedere come fare un piatto buonissimo, sano e caldo per l'inverno, svuotando semplicemente il frigorifero, quindi utilizzando le cose che avete in frigo. Allora, per la ricetta svuota frigo vi servirà un cavolo cappuccio, questo è di media grandezza, fagiolini, una zucchina, un porro, lenticchie pronte, quelle lì già bollite che basta che le tirate fuori le sciacquate, germogli di soia, poi sale, pepe, olio, paprika e erba cipollina. Poi vediamo se ci va, possiamo aggiungere anche qualche altra spezia. Iniziamo! Come primissima cosa inizio e taglio tutte le verdure, quindi la zucchina, il porro, la verza, spezzo un pochino i fagiolini e li metto in una pentola wok, quindi col fondo un pochettino più alto. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man who lives on Jury Lane? Yes we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, yes we know the Muffin Man who lives on Jury Lane? A questo punto ho messo tutto nella padella e la cosa più bella di queste ricette è che comunque, come dire, riuscite a fare un piatto buonissimo con pochi ingredienti e poi riuscite a togliere dal frigo quello che magari vi stava rovinando. Quindi, accettiamo il fuoco, metto un bel pochino d'acqua, ok, chiudo e lascio fare per circa 10-15 minuti. In questi tipi di ricette inoltre ci stanno molto bene anche le zucchine, che appunto ce le ho messe, oppure melanzane, peperoni, se avete anche per esempio le carote, potete tritarle tutte, fare una bella zuppa di carote. Qua praticamente alla fine verrà una zuppa calda di verdure, lenticchie e germogli di soia. A questo punto sono passati appunto circa 15-20 minuti e la questione è questa. Ho aggiunto ancora un pochino d'acqua, quindi aggiungete un pochino d'acqua se vi sembra che si asciughi troppo, non vogliamo farla assolutamente bruciare. E aspettiamo ancora un pochino che l'acqua venga assorbita. A questo punto si sono appassite bene, quindi metto un giro d'olio, non tantissimo, un pochino di pepe e un pochino di sale. Mescolate e attendiamo. Aspettiamo circa un'altri 5 minuti, giusto il tempo che assorba tutta l'acqua. Nel frattempo metto le spezie, quindi aggiungo erba, cipollina e un pochino di paprika. Allora, a questo punto ho spento il fuoco e praticamente adesso non riesco a farvelo vedere bene, altrimenti dovrei fare un casino della miseria. Comunque, frullo metà di questa, l'altra metà la lascio a pezzettoni e poi metto tutto insieme. Ho frullato una metà, come potete vedere ci sono dei pezzettoni e c'è comunque una sorta di cremina. Adesso ho lavato sotto l'acqua corretta le lenticchie e i germogli di soia e ce li vado a tuffare. Mescolate così. Non c'è bisogno di accendere il fuoco perché tanto queste cose qua sono già cotte, quindi va bene così. e il piatto è pronto. Adesso impiattiamo. Avrete un piatto caldo, sano, buono e non avrete speso una lira per andare a fare la spesa perché tanto, come dire, avete riciclato tutte le cose che avete nel frigo. Ecco qua il nostro piatto fumante caldissimo. Io vi consiglio di provarlo, magari se non avete proprio queste verdure, anche altre verdure, insomma, è buonissima, una bella zuppa calda, specialmente d'inverno. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi mando un grossissimo bacio e mi raccomando, mangiate sano! Mua! Ciao!